Oh, il tirotolo di pezzo. Ah, bene, dai, andiamo a vedere. E' vero che c'hanno un pazzo veloce, eh? Che carino. E' vero che c'hanno un pazzo veloce, eh? E' vero che c'hanno un pazzo veloce, eh? Che chiese è questa? Ah, è il purgatorio. Mamma che vergogna, neanche la chiese del mio paese, so. E' vero, è il purgatorio, se sono nato mia signora Puccina, ma... Mi ha straggio. Dai, sentiamo la banda, mi sorpreso la banda. E' vero che non mi ha... E' vero che non mi ha... Ogni portone... Ogni portone... Ogni portone ce l'ho bisogno. Ogni portone ce l'ho bisogno, ogni per io, mamma, ogni per io. Ogni portone ce l'ho bisogno, ogni per io, mamma, ogni per io. Scusate, ma noi ne dobbiamo andare a Bashi, dobbiamo andare. Perchè ti dici il pazzo che è morto? Avete fatto anche un po' Ah certo, questo qua è un po' di rosa Preattattato Che bello questo indietro Sui 360iro La mia gente è un po' di rosa E non lo si chiama Un po' di rosa Ma la mia gente è un po' di rosa Un po' di rosa Un po' di rosa E' un po' di rosa Un po' di rosa È un po' di rosa La parlazione del coglione. 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 La parlazione del coglione.